Quando si parla di green, da quanto ho capito io nella chiacchierata in questi giorni e anche stamattina, si parla un po' come della ricetta della carbonara. Piace a tutti ma ognuno ha degli ingredienti che divergono un po' l'uno dall'altro. Non si capisce bene, almeno io che non sono un tecnico, non capisco bene quale sia la ricetta partendo da 100 a 0, le varianti sono molte. Quindi io direi di fare un giro tra i partecipanti a questo talk show, innanzitutto per capire qual è la ricetta adottata dalle varie aziende che sono qui presenti. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio Norbert per il finale felice. Magari era meglio farlo un po' più lungo, ti sei proprio ridotto all'ultima slide. Ma secondo me una cosa chiara è che dovremmo mangiare tutti carbonara, indipendentemente dalla ricetta, nel senso che il green non è un problema, è un'opportunità ed è già entrata nella quotidianità. Anche dei rivenditori, nel senso che il titolo della presentazione che ha fatto prima Norbert parlava del green all'interno delle rivendite. In realtà ci siamo già dentro. Nel nostro caso, nel caso di Winderberger, che è una multinazionale che si occupa della produzione di un materiale storico come l'atterizio, per noi fare una sustainability roadmap è stato fondamentale per impostare i lavori per l'oggi e per il domani. Quindi già noi oggi abbiamo un programma complesso anche di quello che andremo a fare, suddiviso su vari pilastri. Perché è verissima una cosa che ha detto lei. C'è difformità nella definizione di cosa sia sostenibile. L'ESG, la trilogia dell'ESG, Environmental, Social and Governance, un pochino ci aiuta e ci dice che dobbiamo andare a vedere vari aspetti. Da un lato la decarbonizzazione, che già qui si apre un mondo perché si possono ridurre emissioni di CO2 sia noi aziende e l'autoproduzione sia poi all'interno dell'edificio finito. Diminuiamo il fabbisogno. Ma è altrettanto sostenibilità lavorare sull'economia circolare, che è un po' il metro che è stato scelto in Italia per parlare di sostenibilità. Perché oggi l'ultima norma cogente che abbiamo in ambito indilizio per parlare di sostenibilità sono i criteri ambientali minimi. Poi forse affronteremo il tema, in cui è semplicemente richiesto la percentuale di materiale riciclato all'interno dei prodotti da costruzione. È un pezzettino della sostenibilità. Un altro pezzettino è anche la biodiversità, la tutela dell'ambiente, eccetera. Non voglio monopolizzare la discussione, poi magari l'approfondiremo dopo, però insomma. Diciamo che di positivo, Norber parlava di materiali naturali e di provenienza vicina alla zona di produzione. Devo dire che finalmente l'atterizio sta avendo un ruolo molto importante da protagonista in questo ambito, perché è un materiale estremamente naturale. L'argilla è un materiale che, se scaviamo sotto i nostri piedi, troviamo praticamente in tutta la pianura padana. E noi sul nostro EPD, che è la certificazione più trasparente che ci sia in ambito di sostenibilità, di etichette ambientali, noi dichiariamo che quasi un 80% delle materie prime arrivano da un meno di chilometro di distanza dalla produzione. Questo insomma è un... Certo, è importante. Contiamo il giro con le ricette della carbonara. Benissimo. Buonasera, io mi chiamo Palazzo e lavoro in Italcementi. Allora, ho la fortuna di lavorare in una forza vendita, nella rete vendita, quindi abbraccio le visioni sia dall'esterno dell'azienda ma anche dall'interno. Diciamo che dopo l'intervento di Mr. Norbert, che ringrazio e che ho avuto la prima volta che noto l'empatia della gravità della situazione, non c'è da sorridere dopo il suo intervento, al contrario, c'è da correre, rafforzo un po' e vi presento brevemente quelle che sono le iniziative della nostra azienda e del commitment che ha preso il gruppo Heidelberg e Italcementi, nello specifico in Italia, proprio per questo traguardo 2030, che anche per noi è diventato una milestone nella quale dichiariamo un forte abbattimento della CO2 derivata appunto dalla produzione dei nostri prodotti. L'industria del cemento, come altre industrie pesanti, è un'industria altamente energivora. Dipendiamo dall'energia. I primi passi li stiamo facendo proprio dalle fonti di energia. Le materie prime e secondi, cioè i combustibili composti secondi, i cosiddetti proprio riciclati dalle materie prime, stanno entrando sempre più nelle nostre, diciamo, fabbriche. Nonostante il governo, la nuova legislazione italiana, non sia tra le più favorevoli o semplici nell'adottare questi tipi di prodotti, ma a partire dal nostro amministratore legato, ma tutto il gruppo, stiamo sbandierando ai 420 questa forte necessità di aumentare la percentuale di questi combustibili secondi nei nostri impianti. E questo dalla parte, diciamo, produzione. Ovviamente questo comporta anche degli investimenti in produzione, perché per adeguarsi a questi standard, gli impianti attuali devono essere ovviamente aggiornati, modificati. Parliamo invece di quello che facciamo all'esterno, sui clienti e quindi ai prodotti. I nostri prodotti, ovviamente, sono prodotti con un contenuto di clinker necessario previsto dalla norma. Ci stiamo spostando, garantendo le analoghe prestazioni, anzi, come diceva il mio direttore commerciale oggi nel video, migliorandole addirittura, utilizzando cementi con dei composti secondi derivati da materie di riciclo, quelli della loppa d'alto forno o il fly ash, che consentono di ottenere miscele di cementi moderne, nuove, ma che comunque hanno all'interno un minor CO2, quindi ovviamente ricalcolandole, riportandoli in produzione. Dal fronte ai clienti e anche come rete vendita, questo ringrazio anche l'organizzatrice per il veloce questionario che ha fatto un WhatsApp, che rispecchia a guarda Virginia fedelmente quello che è l'opinione dei nostri clienti. La coscienza nella filiera delle costruzioni sulla sostenibilità, senza entrare nel marketing, perché si fa molto marketing inutile, è ancora bassa. Dobbiamo far tanto. Come ci stiamo muovendo? La formazione, la capillarità della nostra rete vendita col cliente. Mi rilascio a quello che diceva oggi il collega del commerciale della Scrinio. se vogliamo lavorare con i clienti, face to face con i clienti, viva la digitalizzazione, ma manteniamo il rapporto umano con la persona. Abbiamo fatto dei training e stiamo forzando sempre più a far cultura a valle con i nostri clienti su questi temi. Cioè questi tipi di prodotti sostenibili, green, a basso impatto di emissione carbonica, costeranno di più, devono costare di più, perché dietro c'è tutto questo adeguamento. Il mondo sta andando in una direzione dove non sarà una vita facile. Vogliamo essere ottimisti, dobbiamo correre, ma dobbiamo anche prepararci a sostenere queste cose in prima persona con un commitment personale. Nel senso personale dal punto di vista proprio di spesa propria del prodotto. Quando i prodotti costano di più non è un motivo proprio perché si vuole fare un margine ma è perché c'è una necessità. Quindi questi tipi di messaggi la nostra forza vendita li sta portando a valle con i nostri clienti. Stiamo lavorando in questa direzione, quindi formazione interna della nostra rete vendita adeguandola a questo tipo di attività e ovviamente con i nostri clienti che pian pianino, non velocemente, dove purtroppo bisogna essere veloci, stanno cominciando appunto a recepire questi messaggi. Grazie. Continuiamo con Succio e poi Risentino. Buonasera a tutti. Allora, mi pare di capire che il tema della sostenibilità può essere approcciato veramente da tanti punti di vista e ciascuno meriterebbe approfondimenti approfondimenti molto più lunghi dello spazio che abbiamo a disposizione. Quindi prendo a spunto un paio di messaggi chiave che ho recepito dal discorso, dall'interessante presentazione di prima. Il primo è l'importanza del negavat, come l'abbiamo chiamato, cioè del risparmio energetico come principale, come fonte sostenibile, chiamiamola così, principale su cui dobbiamo concentrarci. E da questo punto di vista, credo, visto che siamo nell'ambito comunque di un workshop di rivendite edili, credo che in rivendita ce ne sia parecchio di green da questo punto di vista. Mi riferisco innanzitutto chiaramente alla terracotta di cui siamo appassionati produttori e mi riferisco anche al connubio che oramai i materiali come la terracotta hanno in termini di performance con altri materiali in un'ottica di sistema e quindi l'abbinamento che può esercitare la terracotta con altri materiali da costruzioni per andare a migliorare le capacità degli edifici in termini di risparmio energetico. Abbiamo capito che c'è uno stimolo forte, diciamo così, una opportunità che noi tutti vogliamo esplorare legata al fotovoltaico, questo ce lo siamo detti tutti. Però, dal nostro punto di vista, ad esempio, non pensiamo che un impianto fotovoltaico installato su un tetto non coibentato con magari una bella linea di colmo ben sigillata sia un tetto green. Da questo punto di vista, lasciando da parte un attimo quella che è la soluzione innovativa, che sicuramente è interessante per tutti, capiamo, noi come produttori, di elementi per coperture e magari ci rivolgiamo anche alle aziende distributatrici, che rimanendo nell'ottica del prodotto tradizionale e c'è tanto spazio per dare valore al cliente attraverso un abbinamento più consapevole, più forte, in un'ottica green di materiali tradizionali. L'altro spunto molto interessante che mi è rimasto dell'intervento è legato al costruiamo come se non ci fossero un domani. Questo è molto vero. Dall'interlocuzione che abbiamo a livello di gruppo ci pare che altre legislazioni europee inizino a porsi questo problema e inizino a ragionare sul costo che avrà la costruzione di oggi per le generazioni future, proponendo, probabilmente arrivando a breve ad applicare, un sistema di tipo conai per gli imballi. Quindi tu compri oggi un materiale da costruzione che usi per la tua casa, applico al tuo acquisto una sorta di tassazione forzata perché qualcuno in un futuro debba farsi carico di gestire il rifiuto legato all'edificio. Da questo punto di vista, di nuovo, nella rivendita c'è un materiale green, sicuramente da questo punto di vista permettetevi di fare uno spot sulla terracotta perché la terracotta è il cocciopesto, quello che è il fine vita, diciamo così, della nostra materia prima miscelata alla calce all'intonaco dei Romani qualche migliaio di anni fa. Quindi da questo punto di vista, ripeto, c'è spazio per dare valore green a prodotti tradizionali già ben noti al nostro mondo. Bisentino. Ecco, buongiorno a tutti. Non è facile intervenire perché avete già esaurito buona parte degli argomenti, quindi la prossima volta mi siederò di là. Comunque, posso dire che ICP produce cotto e quindi incontra molte delle tematiche appunto inoltrate in precedenza. La terracotta che utilizziamo è per la quasi totalità a chilometro zero. Il cotto, come diceva Succio qualche secondo fa, è un materiale riciclabile, naturale. Spendo due parole in più sul concetto di riciclabile. Chiaramente riciclabile se integrato in un sistema di posa a secco, diciamo così, quindi non con contributi di leganti a schiume o a malte. Quindi, secondo me, se vogliamo parlare di un sistema, perché come abbiamo visto prima, c'è il materiale che è green, ma poi un grosso impatto lo dà anche il ciclo di vita dell'edificio. Quindi, ha senso parlare di materiali green a nostro avviso posati e utilizzati per costruire edifici che abbiano un basso impatto ambientale. Quindi, secondo me, quello che è l'LCA di un prodotto, se parliamo di tegole o coppi che abbiano un EPD come anche noi abbiamo in gamma, sarebbe interessante secondo me cominciare a fare degli EPD giusto al di là dei protocolli, scendere proprio nell'analisi di quello che è l'impatto ambientale di ogni singolo edificio. Qual è stata la scelta di ICP in tempi anche abbastanza recenti? Io oggi sono qui che vi parlo proprio in luce di questa scelta. Abbiamo un materiale naturale, riciclabile, conforme i CAM, con tutto che concordo con Mantovanelli, CAM secondo me sono in parte una bufala perché dire che in un materiale qualsiasi c'è il 5% di recuperato, il 7,5% da sottoprodotto, rispetto a quello che è stato detto, mi permetto, prima fa sorridere, giusto? Mentre l'EPD, come appunto dicevano i miei qui predecessori, è un'analisi molto più seria, molto più interessante, che vale molto di più sia per l'azienda che per il rivenditore piuttosto che per il cliente finale perché poi è da lì che viene effettivamente fuori il valore ambientale di un prodotto quando andiamo a vedere tutti quegli indici che prima ci sono stati detti l'acidificazione, il global warming e li posso avere e certificare solo con l'analisi di un ciclo di vita del prodotto. Quindi la scelta di ICP è stata sì, il prodotto naturale diciamo così perfettamente riciclabile ce l'abbiamo, è la terracotta, cerchiamo di renderlo, di portarlo al mercato e in questo vorremmo che venisse fatto un grosso lavoro anche con i distributori edili che poi sono in contatto col cliente finale che non viene da noi ma va in rivendita per far capire come però poi tutti i discorsi interessantissimi e verissimi che abbiamo fatto noi oggi poi si scontrano magari con una pratica quotidiana che porta anche un prodotto come il cotto a perdere parecchia della sua valenza per pose improprie o quant'altro quindi ecco io concordo pienamente con quello che hanno detto i miei colleghi permetto di chiamarli colleghi volevo appunto fare un passo in più dicendo noi abbiamo un patrimonio di tetto in Italia che può essere coperto con il fotovoltaico con le fonti rinnovabili il fotovoltaico ormai noi chiaramente lo proponiamo in soluzione integrata col cotto ha anche dei vantaggi sia sulla durabilità del sistema perché non crea elementi di discontinuità nella copertura sia per il comportamento al fuoco sia altri vantaggi che non è il caso di diciamo così elencare adesso con alcune con alcune diciamo rivendite mi permetto particolarmente evolute da questo punto di vista abbiamo già iniziato un percorso vorremmo iniziarlo anche con altre chiaramente non solo perché questa è un'occasione di business per tutti qui stiamo parlando di sostenibilità ma perché se in ogni a me fa sorridere vedere un pannellino fotovoltaico appeso a una balaustra da qualche parte poi chiaramente pensiamo a quanto tetto in cotto c'è in Italia e quanta fonte rinnovabile potremmo creare senza consumare suolo perché come diceva prima il relatore sì però bisogna per fare dell'eolico giusto bisogna consumare suolo i tetti ci sono già usiamoli ecco e quindi e poi non lo dico più perché mi sto già ripetendo secondo noi come ICP sicuramente continueremo nell'implementare gli EP di prodotto cosa in cui crediamo tantissimo i CAM ce li abbiamo già ma questi ormai fanno parte del vivere quotidiano un po' del mercato continueremo a proporre soluzioni complete anche per la sostenibilità dell'edificio come diceva prima Succio io uso dei prodotti come il cotto che sono amici dell'ambiente sostenibili poi non isolo il tetto e quindi di fatto l'edificio su cui li ho utilizzati probabilmente non è sostenibile ecco questa è un po' la filosofia che è nuova nuova insomma recente che c'è in ICP e che noi intendiamo fermamente portare avanti insomma questa è una ricetta una delle ricette della carbonara invece quella di Wienerberg noi entriamo perché qui siamo entrati come dire nella specificità di un prodotto di una soluzione che è la vostra volevo sentire allora anche le altre in modo che ognuno dica la sua ricetta ma sì sì come dicevo prima le declinazioni possono essere varie per noi è un processo più adesso uso una parola un po' inflazionato olistico cioè un approccio che deve vedere a 360 gradi tutto quello che riguarda il nostro settore quindi il coinveggimento di tutti gli attori nelle varie fasi la nostra ricetta è quella di essere da un lato appunto come dicevo prima sostenibili dal punto di vista dei processi cioè andare in un'ottica di decarbonizzazione noi per esempio abbiamo già raggiunto un primo obiettivo che era quello di arrivare al 2023 con una riduzione di emissioni di CO2 di un 15% già siamo sulla strada giusta dall'altra parte facciamo un grandissimo lavoro di ricerca e sviluppo per creare dei prodotti che permettano di creare degli involucri che permettano di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici quindi è una filiera che deve essere lunga però torno al discorso del titolo precedente del green che entra nella rivendita secondo me quello che è emerso anche dagli altri insomma dalle altre riflessioni è che è fondamentale un percorso formativo soprattutto del rivenditore edile perché con questi cam con tutte le criticità che sicuramente hanno hanno creato una nuova domanda che spesso troppo spesso il rivenditore edile non è in grado di interpretare quindi cosa succede? faccio un esempio grande appalto pubblico lo faccio adesso? o vado sì no è una formazione diciamo che era uno dei punti che volevo affrontare ma va benissimo ok perché secondo me è un punto abbastanza nevralgico anche solo perché c'è una questione di linguaggio e di definizioni che deve essere compreso utilizzare tutte le stesse definizioni faccio un esempio grande appalto pubblico a Milano in cui nel disciplinare di gara è richiesto l'EPD per le murature cosa succede? X imprese in tutta Italia contattano altrettante X rivendite in Italia chiedendo dei laterizi che abbiano l'EPD in Italia ad avere l'EPD come Fornaci siamo solo noi e un altro produttore e quindi la maggior parte delle richieste arrivano a noi cosa succede? si è vista proprio il rivenditore come reagiva a questo tipo di sollecitazione c'era una parte con cui abbiamo un rapporto trasparente con cui si è costruito un percorso e gli abbiamo aiutati quindi vuol dire che noi abbiamo aiutato la rivendita la rivendita ha poi aiutato l'impresa e l'impresa è riuscita ad andare in gara con i documenti giusti ci sono rivenditori che non hanno capito cosa gli ha chiesto l'impresa tra l'altro rivenditori con cui avevamo anche degli ottimi rapporti che solo il giorno prima della scadenza dell'appalto hanno capito che ci avevano chiesto la documentazione sbagliata quindi per mancanza di informazione sull'argomento hanno fatto perdere al loro cliente un grossissimo appalto perché non hanno saputo leggere e capire cosa gli stesse chiedendo nel disciplinare di gara l'appalto non è presente se fosse presente no non è presente non è presente però c'è questo proprio problema come dicevo prima di definizione di comunicazione che è fondamentale ma è proprio l'ABC se un disciplinare di gara ti chiede l'EPD che l'abbiamo citato in 40 magari lei non è a Vezzo è l'Environmental Prudal Declaration è l'etichetta diciamo più completa e poi il rivenditore mi chiede la marcatura CE del prodotto o al massimo ICAM siamo molto lontani da essere performanti e magari noi aziende avremo a disposizione una serie di armi eccezionali per il rivenditore e il rivenditore non riuscendo magari a intercettare bene la domanda dell'impresa spreca delle occasioni e questo è un gran peccato perché tutte le nostre aziende stanno facendo veramente tanto sul discorso della sostenibilità e mi creda siamo molto più avanti di quanto secondo me il mercato recepisce nel senso che stiamo facendo lavori io quando mi confronto anche con i colleghi dell'Operation anche a livello estero ci sono in ballo dei progetti che sono quasi fantascientifici direi Palazzo quella invece è la ricetta proprio specifica a parte il colore della carta fuori che impacchetta il cemento va ha nominato proprio una cosa sensibile allora la nostra ricetta oggi senza entrare nello specifico non gliela posso svelare però sicuramente stiamo lavorando a dei progetti sono ancora sotto confidenzialità ma che comunque rivoluzieranno un po' sia al nostro interno ma all'esterno puntiamo molto all'economia circolare siamo protagonisti delle costruzioni forniamo un prodotto base per la costruzione stiamo parlando proprio cemento quindi fondamenta partiamo da giù vogliamo anche essere protagonisti dell'economia circolare cioè del recupero del riciclo e quindi riutilizzare anche dalle demolizioni quelli che sono i risultati della nostra posi in opera questo è uno ha nominato la carta quella fa parte di un packaging di un confezionamento anche lì secondo me c'è molto da fare riprendere la carta ritrattarla e poi riutilizzarla nei nostri impianti è un processo da affrontare ho capito Succio la ricetta mi sembra credo che sia un po' diversa da quella invece del suo collega visentino per alcuni aspetti sì per altri no però ripeto di nuovo il discorso potrebbe essere lungo però per sintetizzare credo che la nostra ricetta sia possa essere sintetizzata veramente in una parola sistema come risposta ad un bisogno per prendere quella che è stata un po' la parola che ci ha proposto questa mattina il professor Noci pensiamo noi produciamo elementi in laterizio per le coperture e per la parete crediamo che chi va in rivendita a chiedere una tegola non abbia bisogno della tegola bisogno di fare o rifare un tetto e la nostra proposta è quella la nostra idea è quella di fornirgli una soluzione quindi dargli un'idea di come rendere quel tetto efficiente per il suo conforto abitativo e risparmio energetico del suo edificio con il nostro materiale in abbinamento ad altri poi i materiali che noi vendiamo in abbinamento possono essere nostri o non nostri perché magari in rivendita si trovano altre opportunità penso agli isolanti eccetera però noi in gamma abbiamo degli elementi che consentono ad esempio di proporre una soluzione di tetto ventilato che dati alla mano possono contribuire ad una riduzione dei consumi per il raffrescamento dello spazio sotto tegola fino al 50% rispetto a soluzioni di tetto non ventilato e con il riscaldamento globale e l'affrescamento il sole ci aiuta tanto perché è una fonte di energia rinnovabile però ci obbliga anche a consumare non dimentichiamo perché oramai siamo più preoccupati del caldo in estate credo o almeno altrettanto del caldo in estate come del freddo in inverno idem per la parete noi proponiamo in abbinamento ai nostri mattoni un sistema parete che va nell'insieme a risolvere dare soluzione al bisogno di chi ha la necessità di avere una parete bella salubre e isolante per il proprio comfort questo lo facciamo anche più recentemente qui mi piace sottolineare anche il successo del nostro diciamo così ultimo arrivato del nostro terracotta il nostro cappotto rivestito in latrizio quindi è un matrimonio riuscito tra un prodotto isolante rivestito in terracotta che si presta cioè cappotto rivestito o l'atterizio rivestito in cappotto no allora è un praticamente un pannello in pinesse con graffite disponibile anche senza ma tipicamente con graffite su cui noi andiamo ad applicare dei listelli quindi una un taglio di due centimetri di mattone per ottenere come risultato finito l'estetica di una parete fatta con con il mattone insomma quindi abbiniamo in un unico prodotto un sistema ripeto quello che è isolamento finitura con un materiale tradizionale di pregio come l'atterizio ho capito bisentino prima lei ha già anticipato un po' la sua diciamo soluzione che da quanto capito è una tegola anche con pannello fotovoltaico integrato ecco vorrei invece tornare su quello che diceva prima Mantovanelli ma in realtà i distributori sono preparati o non sono preparati allora con un po' di mi permetta altezzosità noi dobbiamo aiutarli a prepararsi nel senso che Mantovanelli prima diceva che dobbiamo creare sinergia anche nella formazione con la rivendita ha fatto un esempio molto concreto di uno o più rivenditori adesso non lo so e non è importante in questo caso che non hanno neanche capito qual era la richiesta del committente che in questo caso era pubblico ecco se noi indipendentemente dal fatto che poi ci vada la tegola A la tegola B l'atterizio da parete verticale A l'atterizio da parete verticale B tutti insieme parliamo di produttori dei materiali per l'involucro quali noi tutti qui seduti a questo tavolo siamo anche se magari chi fa cemento interviene anche più sull'antisismica e sulla struttura di un'abitazione no però comunque in qualche maniera lavoriamo sull'involucro edilizio riusciamo magari anche in maniera intelligente a fare squadra e a lavorare con le rivendite che sono i clienti di tutti e fare formazione in questo senso secondo me commercialmente abbiamo fatto bingo poi la vendita ce la giochiamo nel momento in cui ce ne sarà la necessità e quello che noto io ma è giusto che sia così perché l'operatività di tutti i giorni poi assorbe tempo energie e costi è che abbiamo tutti delle idee comuni almeno noi quattro seduti a questo tavolo poi ci sono delle peculiarità tipiche a una tecnologia un materiale piuttosto che ad un'altra però magari non se ne parla mai io da solo faccio per uno in quattro faremo però per dieci probabilmente anche nella forza propulsiva verso i nostri clienti verso le rivendite per spiegare questi concetti perché succio dieci cinque minuti fa ha detto che il tetto ventilato genera benessere per chi in effetti ci sono dei concetti ma voi siete concorrenti vi ricordo perché voi fate sempre i complimenti a questa ricerca abbiamo partecipato ah va bene c'è una ricerca dell'Enea che parla di un indicatore molto semplice che è la riflettanza equivalente di un tetto ventilato in cui praticamente per andare a sodo un tetto ventilato fatto con una tegola rossa scuro che però sotto preveda degli elementi di ventilazione ha una temperatura sottomanto che è inferiore a quella fatta con un elemento che abbia una riflettanza altissima quindi possiamo dire spero non ci sia un produttore è una guaina bituminosa bianca ok ormai abbiamo tutto tranquillo ok tutti tranquilli i dati ci sono sono dimostrabili sono quantificabili al punto che se lei prende il nuovo decreto CAM dove al 2.3.3 dove si parla di isola di calore e se ci fosse qui ancora Norbert probabilmente si illuminerebbe ok il tetto ventilato mentre prima si diceva nel vecchio decreto CAM del 2017 che la riflettanza degli elementi discontinui doveva essere maggiore o uguale a 29 la riflettanza termica adesso si dice che è sufficiente un tetto ventilato o un tetto verde quindi un tetto ventilato oggi in un CAM è equiparato a un tetto verde quanto costa posare una tegola su un tetto ventilato rispetto a un tetto verde questi sono concetti che per un rivenditore edile sono moneta bisogna farglieli arrivare come? probabilmente un'azienda sola per quanto sia grande strutturata piuttosto che altro ha i suoi mezzi io lo vedevo io vengo dal mondo degli isolanti ed è la difficoltà che ho sempre incontrato anche lì è proprio questa che non si riusciva a fare squadra c'erano dei piccoli scrigni dei segreti quando invece soprattutto in momenti di cambiamenti importanti come questi e di incertezza stamattina adesso parliamo di sostenibilità stamattina affrontavamo tematiche più economiche più congiunturali invece sarebbe il momento giusto perché? perché probabilmente il rivenditore è più propenso ad ascoltare ecco permettetemi sono andato un po' fuori tema no 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 certo certo Palazzo lei voleva aggiungere qualcosa sì volevo aggiungere qualcosa appunto proprio sulla formazione perché io qua ho preso appunto un appunto stamattina al questionario sulla sostenibilità qua il 54% della platea ha sentito moderatamente necessaria questa cosa ma le posso garantire che questo 54% è oro perché qui la platea di oggi appunto è fatta da titolari di aziende dai proprietari ma se andiamo a valle sotto nella filiera con 2000 patrimonio di rivendita che abbiamo non è il 54% è il 90% ancora c'è veramente tanto da fare il primo passo devono fare i titolari dell'azienda perché come diceva oggi Noci oltre opportunità di business su bisogni futuri oggi ancora non praticamente manifestati in espressi perché le generazioni future lo pretenderanno si parlava della borraccia per andare a prendere l'acqua si è tolta la bottiglietta di plastica dei nuovi delle new generation ma di fatto l'etica e la coscienza di quello che si fa oltre alla alla remunerazione devono permanere un po' tutta la filiera delle costruzioni questo noi come azienda lo stiamo facendo in prima persona ci proviamo spingiamo in questa direzione quindi la formazione la capabilità nel far passare il concetto del prodotto sostenibile ma un passo importante è la consapevolezza di farlo anche l'azienda a valle proprio il rivenditore essere meno commerciante e più diciamo protagonista nella filiera vorrei chiudere con un punto dolente non odiatemi vi ho già detto che oggi è il giorno mondiale dei moderatori di convegne mi sono inventato io va bene no tutti voi lavorate in aziende energivore quindi ci sono due aspetti uno è il costo dell'energia uno è il consumo dell'energia come l'ho affrontata? ma allora anche qui è sempre torniamo ancora alle definizioni energivore rispetto a cosa? uno dei grandi parametri che bisognerà andare a calcolare proprio a livello di normative europee parlando di sostenibilità è quanta CO2 emetto per produrre questo materiale e quanta nel risparmio durante il ciclo di vita utile che non è un parametro da poco perché se voi considerate che per esempio l'atterizio da analisi del TBE che è un po' l'associazione di categoria europea che si occupa di materiali ceramici dice nero su bianco che il latterizio non ha nessun decadimento per almeno 150 anni lei capisce che se anche siamo un'azienda energivora ma quella quantità X di CO2 per fare quell'atterizio ci permette poi di avere un edificio che ha una durabilità che supera 100 anni ecco che stiamo facendo un lavoro che è esattamente in antitesi all'essere energivori perché cosa succede? se si usa un materiale da costruzione che non ha decadimenti chimici e di prestazione si evita di fare manutenzione straordinaria PLC quello che lei dice PLC la vita di prodotto sì esattamente il ciclo di vita utile dell'edificio se lei ha un edificio anziché avere un ciclo di vita utile di 30 anni 40 anni ce l'ha di 100 e lei per questi 100 anni non deve andare a fare degli interventi di manutenzione straordinaria ha un risparmio notevole dal punto di vista ambientale lei immagini una soluzione che ogni 30 anni deve essere manutenuta quella manutenzione crea dei rifiuti che creano un sovraccarico sull'ambiente quindi si energivora ma ecco rinnovabile ma secondo me diventa sempre nell'ottica dell'esperienza e della professionalità che devono acquisire loro perché sono veramente l'anello di mezzo tra produzione e poi chi le case le costruisce è quello anche di saper aiutare a indirizzare nella scelta del materiale durante tutto il suo ciclo di vita utile non solo nella fase di produzione ma anche nel ciclo di vita utile e poi anche nella fase di nella fase di dismissione io tra l'altro volevo anche aggiungere che mi spiace che sia andato via eh sì mi ha detto che aveva purtroppo un appuntamento urgente poi si parla molto di rinnovabili però fare andare a paleoliche un sito di produzione di argilla di laterizi ma guardi in realtà in realtà noi in Belgio abbiamo inaugurato da poco un impianto di listelli faccia vista che va al 100% con energia elettrica da fonti rinnovabili quindi io per quello le dico questa fase non la vedo come una criticità la vedo come una grandissima opportunità perché è una fase che ci obbliga a ripensare completamente i processi produttivi io le assicuro prima le parlavo di cose fantascientifiche ma ci sono delle possibilità per cuocere un laterizio che esulano dall'utilizzo di metano e quindi anche con delle riduzioni importanti dal punto di vista della CO2 quindi ripeto spostiamo l'asse non su quel breve momento che è la produzione ma sull'intero ciclo dell'edificio ecco vorrei dire un'altra cosa ma mi sono dimenticato no no prego allora mi collego al collega perché alla fine quando cuociamo cuociamo entrambi quindi allora fin quando le nuove tecnologie più efficienti non verranno messe in atto ci vorrà del tempo dobbiamo cuocere alla vecchia quindi c'è poco da fare siamo nel sacco come azienda abbiamo differenti impianti produttivi ci stiamo focalizzando sugli impianti produttivi con più efficienza più efficienti quindi più basso perché ogni impianto ha un processo delle materie prime diverse puntiamo su questi impianti dove dal punto di vista di produzione i costi ovviamente sono più bassi legati anche al tecnicismo all'efficienza dell'impianto e quindi puntiamo a saturare queste fabbriche rendendo al massimo i loro rendimenti utilizzando al massimo i loro rendimenti e quindi lavoriamo in questo modo ovviamente assieme come ho detto prima a prodotti a compositi quindi con aggiunte seconde proprio per ridurre il contenuto di CO2 messa su ciò sposo in pieno quanto è stato detto prima da Mantovanelli sull'importanza di guardare al ciclo di vita del profondo mi chiedo scusa sposo in pieno quanto è stato detto prima da Mantovanelli sull'importanza di guardare al ciclo di vita del materiale e per non ripetermi aggiungo qualcosa che riguarda un po' la vita delle nostre aziende nel senso che voglio dire come ci siamo detti credo che tutti siamo impegnati stando i produttori di laterizia privilegiare argille di produzione locale tipicamente voglio dire le nostre sono almeno le nostre sono multinazionali ma i nostri stabilimenti sono nati molto prima della multinazionale sono aziende storiche nei luoghi dove ancora oggi sono insediati e le fabbriche come la nostra venivano fatte dove c'era la disponibilità della materia prima quindi ad esempio cito il nostro caso di Valenza la fabbrica è fatta nella cava quindi sostanzialmente l'argilla è totalmente a chilometro a chilometro zero siamo qui tutti impegnati nel diciamo così nell'autoprodurci l'energia elettrica almeno per quanto possibile credo che tutti abbiamo dei piani di sviluppo sull'energia fotovoltaica a Valenza tra i tetti e una parte di cava di smessa ci sono pannelli fotovoltaici in grado di produrre tanta energia quanta ne consumiamo poi c'è il tema del giorno e della notte ma questi sono altri aspetti e investiamo continuamente in tecnologie tutti noi ad oggi consumiamo tanto gas e al gas non c'è una vera alternativa questo è vero però voglio dire la terracotta si fa da migliaia di anni il gas lo bruciamo da 35 40 anni fa non vorrei dimenticare che siamo prima a casa e poi nelle fabbriche passate al gas perché qualcuno ci diceva che quella era la fonte di energia più economica più pulita l'energia verde del futuro bene siamo qui ci sono delle sfide nuove le affronteremo le stiamo tutti affrontando non c'è una vera alternativa ad oggi credo beh qualcosa di idrogeno però non è un'alternativa di oggi sappiamo che probabilmente nel giro di anni arriveremo ad un'alternativa ma stiamo tutti investendo per il futuro quindi ripeto cerchiamo di guardare le cose con equilibrio questo vi dà un po' lo spunto per ricordare a tutti noi che stamattina abbiamo parlato tanto di inflazione da energia questa inflazione di energia è partita l'anno scorso a metà anno come è stato detto e sicuramente una grande spinta è arrivata dalla pubblicazione del piano europeo Fit for 35 se non ricordo male bellissimo piano ha dato degli indirizzi degli obiettivi molto ambiziosi però dare degli obiettivi così ambiziosi senza una vera roadmap di come raggiungerci crea poi di creare dei problemi e soprattutto probabilmente questo ha dato spunto ad un certo tipo di speculazione di innescare dei meccanismi di crescita del costo delle CO2 dell'energia elettrica del gas che poi colpa della guerra si sono amplificati e ci portano alla situazione dove siamo qui oggi però per dire noi credo tutti siamo impegnati nel guardare avanti in maniera concreta e nel cercare delle alternative che ci portino il prima possibile a se possibile alla neutralità carbonica o comunque delle soluzioni più efficienti Bisantin energia consumi sì alternative industria Cotto Possagno ha un piano per un fotovoltaico diciamo sulle coperture che è già approvato quindi adesso la scelta poi i tempi non li ho detto certo io all'interno dell'organizzazione aziendale quindi confermo quanto detto da loro stiamo tutti andando chi è già un pelino più avanti chi è partito un attimo dopo ma stiamo tutti andando nella stessa direzione ha senso però e scusate io insisto e mi aggancio a Mantovanelli parlare di ciclo di vita del prodotto considerato anche quella che sarà la vita utile dell'edificio se lei va a vedere noi abbiamo due prodotti unicopo e tesi con una certificazione PD e va a vedere uno degli indicatori il global warming di una delle nostre tegole e lo confronta con quello di una lamiera da copertura siamo un terzo non con la loro con una lamiera 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 no no qui siamo tutti no 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 lamiera siamo un terzo quindi ma perché perché facendo un EPD prodotto si tiene conto della vita dalla culla alla tomba si diceva una volta di quella che è la vita utile del prodotto i lattonieri dicono la stessa cosa ma allora non mi confonda produttori di lamiera con lattonieri è un'altra cosa il metallo è ben altra cosa l'avverto nel caso il capitale il lattoniere rivetta appunto no vabbè insomma chi si occupa di quelle robe lì quindi il tutto ha e scusatemi torno all'inizio ha senso se inquadrato in un contesto io non vedrei male al di là dei protocolli l'ID degli edifici e altre cose un qualcosa che assomigliasse appunto tanto a un EPD su un ciclo di vita di un edificio ma fatto per decreto cioè lo facciamo tutti anche quello che si fa la casetta lei non sa quanti proprietari di immobili ci sono in Parlamento che non approveranno mai questa cosa beh potrebbe essere un'occasione di riqualificare per riqualificare il patrimonio immobiliare nel senso dare un valore effettivo a quell'immobile oggi c'è un gran caos anche su quel mercato lì secondo me a Milano Milano è l'unica città in Italia che aveva approvato il comune aveva approvato la obbligatorietà di una certificazione antisismica non per tutte le case ma per le case oltre i 50 anni l'ha dovuta ritirare dico solo questo quindi figuriamoci cioè andare sul tema della sostenibilità adesso no io dico sono d'accordo con lei però diciamo che allora noi diciamo quello che sarebbe bello fare poi se si può fare non sarò certo io deciderlo ovviamente probabilmente nessuno degli astanti però sicuramente dico far passare i concetti giusti lei probabilmente fatica a trovare uno che percepisce un tetto in cotto come meno impattante di un tetto in lamiera anzi oggi la tendenza sul mercato diciamo lo spiccia così è esattamente il contrario io invito sempre ad andare a vedere i numeri che siano favorevoli o no al cotto perché magari non tutti gli indicatori sono favorevoli a una tecnologia piuttosto che un'altra andiamo a vederli il passaggio da fare è questo con chi? con i nostri clienti con le rivendite alle quali torno all'inizio queste cose certo non sono per esempio vanno passare a proposito qualcuno ha delle domande da fare? io direi che allora ringrazio tutti i partecipanti la ingegna Gambino anche la regia che è stata puntuale e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.